Ultime notizie dal Tgcom. Nella strage di Istanbul ha perso la vita anche il console inglese. Intanto la lista dei morti si allunga. 27 le vittime e oltre 400 i feriti. Per ora Scanzano non sarà la sede per lo stoccaggio dei rifiuti nucleari, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. Il deposito verrà realizzato nei luoghi di produzione delle scorie. Per ricevere sempre in anticipo via sms e notizie di gossip potete abbonarvi al nostro servizio Tgcom Rumors. Basta inviare un sms con scritto TgGoss sì al numero 48429. Costi e informazioni alla pagina 556 di Media Video. Per tutte le altre notizie venite a trovarci su www.tgcom.it. Vi lasciamo al meteo e alla seconda parte del film. Perché ci ha messo tanto a denunciare la scomparsa? A volte mio figlio non tornava a dormire. Faro Sakari, campo di detenzione per minori. Il campo di detenzione? Perché ci sarebbe andato? Beh, magari a trovare un'amica. Un rigoroso codice disciplinare. Non è una delle mie cadette. Non l'ho mai vista prima d'ora. Troppo facile da trasgredire. Stesso colore della sconosciuta. CSI Miami. Quella ragazza aveva un segreto. Domani sera alle 21 in prima visione su Italia 1. Ora sei pronto per Xbox Limited Edition. Che include Halo. Meta Madness 3. E due mesi di prova con Xbox Live. Il nuovo modo per giocare online su Panda Larga. Se lo compri, arriveranno. da Barilla, pomodoro e ricotta. Quel sapore speciale delle cose fatte con amore. pomodoro e ricotta Barilla. Nato dall'amore per la pasta. E da oggi, verdure saltate. Una nuova ricetta. Tutta da gustare. È arrivata una nuova idea di sportività. Nuova Citroen C2. La prima Urban Sports Car. Orte spalancate sabato 22 e domenica 23. Borotalco bagno schiuma. Alto lallo stress. Borotalco bagno schiuma. Inconfondibile profumo. Inconfondibile cremosità. Inconfondibile effetto borotalco sulla pelle. Borotalco. Alt. Alto lallo stress. Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano. Amaro Lucano. Voglio il meglio. La staffa del campione ce l'hai già. Fermati all'IP. Raccogli i punti e l'equipaggiamento te lo regaliamo noi. I fantastici premi della Sport Collection. Solo da IP. Sono per te. E in più con IP insieme per lo sport aiuti la tua società sportiva preferita. Now scopri un mondo di passione. Un mondo di goal. Direttamente sul tuo cellulare. Ovunque tu sia. Scopri Vodafone Live. Tutti intorno a te. E ora rotta verso l'isola dei paguri. Bene. Fa un po' il paguro. Tutto a posto. Aiuto! Emergenzia! Rescador! Motores! Emergenzia! Mille euros! Quantos? Mille euros! Mille euros! Paguro, quanto c'è rimasto? Mamma? Poste Italiane presenta Poste Pay. La carta prepagata e ricaricabile. Anche a distanza. Quanto ricarichiamo? Mille euros. Per i miei paguri. Poste Italiane! Battere lo sporco diventa un hobby. Oggi c'è Scrabby di Ariete. La nuova spazzola ricaricabile multiuso che pulisce casa, auto, giardino, garage. Che potenza! Scrabby da Ariete. Il genio della casa. Da Rimmel London. Una vera rivoluzione. Il nuovo mascara Extreme Definition con applicatore a pettine. Separa e definisce le ciglia una a una. Inizia la rivoluzione. E tu? Da che parte stai? Nuova Extreme Definition Mascara a pettine. Rimmel. The London Look. I tacchiatti slanciano, ma... Mangiare leggero fa bene, ma il gusto... Ma aprite gli occhi! A tavola c'è vita snella, che è magrissimo, ma è buonissimo. Da non vita snella. 0% sacrifici, 100% gusto. Basta con le pettinature da bravo figlio di papà. Ecco, hard! Fissaggio estremo. Garnier Crea Fructi Style Hard. Il gel ultra estremo che ti scatena. Capelli strutturati. Pietrificati. Ultra hard. Ultra fissante. Tenuta oltre ogni limite. Nuovo gel Fructi Style Hard. Garnier. Selezionata, lavata con cura e pronta da condire. Con Bounduel cresce la voglia di insalata. Nuova Punto con motore Multijet. La rivoluzione del diesel. Nuova Punto Multijet. Tua da 10.500 euro. E su tutta la gamma Punto, fino a 2.000 euro di vantaggi. Nuovo Siemens MC-60 con fotocamera integrata. Siemens Mobile. Italia! Uno! È un autista, non un killer. Santi ha già ucciso un agente di polizia e ne ha un altro in ostaggio. È un evaso, non un assassino. Gli daremo quello che si vede. Lascia che se li tengono, questi andati soldi. Voglio la mia parte. Sennò è finita per tutti. Per tutti. La caccia si è aperta. Sul bersaglio sbagliato. Mi ascolterà. Testimonierò per te. Dolph Lundgren in Caccia Mortale. Lunediale 21, Italia 1. Ha successo quel bastardo. Maria non ce la fa più a fare la spesa. Alberto si sente ormai inutile. Claudia vuole mettersi alla prova. Lisa è stanca di stare sola. Gino non può ritirare le medicine. Giulia vuole rendersi utile. Se hai tra i 18 e i 26 anni, scegli il servizio civile. Con il servizio civile aiuti gli altri, ti prepari al lavoro e fai una scelta che ti cambia la vita. Ecco la spesa e queste sono le medicine. Beh che si mangia oggi? La bene! E oggi panino. Questo programma è offerto da Festival Crociere. I maestri europei dell'Ecrociere. Buonasera, questo è il tempo di domani. Al mattino nubi su isole maggiori e regioni tirreniche. Molte nebbie nella pianura Padano-Veneta e lungo le coste adriatiche. Piogge su Sardegna e Sicilia. Al pomeriggio molte nubi in pianura Padano-Veneta e al centro-sud. Piogge su Piemonte, riviera di Ponente, laghi Lombardi, isole maggiori e bassa Calabria. Neve sulle Alpi occidentali, oltre i 1700 metri. Venti di scirocco, 10-15 nodi su quasi tutti i mari. Temperature nella norma. Dati servizio meteo-aeronautiche, elaborazioni e grafica Epson.